Le urla disperate hanno svegliato i vicini. L'intervento nella notte della polizia ha salvato una donna dall'ennesima violenza del compagno. L'allarma è scattato mercoledì notte quando un residente dell'Arcella ha chiamato il 113 perché sentiva urlare una donna dal terrazzo del condominio adiacente. La vittima, molto agitata, chiedeva aiuto mentre un uomo la afferrava con violenza nel tentativo di riportarla dentro l'abitazione. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna con il volto ricoperto di sangue, un taglio al sopracciglio, lo zigomo gonfio e vistosi ematomi sulle braccia. La donna ha raccontato di essere stata aggrita dal compagno al culmine di una lite scoppiate al rientro da una serata trascorsa al bar. L'uomo l'avrebbe pestata di botte e morsicata per una lite scaturita dalla richiesta di una sigaretta. La violenza però durava da tempo. Durante i tre anni di relazione il compagno l'aveva in più occasioni malmenata ma lei non aveva mai denunciato. L'altra notte, quando la donna ha cercato di dare l'allarme, il compagno l'ha riportata in casa e addirittura ha tentato di strozzarla. L'allarme, tempestivo del vicino, ha evitato così l'ennesima tragedia. L'uomo con precedenti è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.